L'inchiesta è partita da Palermo e ha consentito alla polizia postale di sgominare una rete di pedofili attiva nello scambio di migliaia di foto e filmati pedopornografici. Per 13 persone sono scattati gli arresti, altre 21 sono state denunciate a piede libero. È stata ricostruita la rete dell'orrore, composta da cittadini italiani e stranieri che veicolavano attraverso internet foto e video di atti sessuali tra adulti e minori. In alcuni casi erano coinvolti pure neonati. Sono stati sequestrati 250.000 file. L'indagine è durata un anno e mezzo e si è sviluppata oltre che a Palermo in altre 12 città, tra cui Catania, Roma, Milano e Torino. I poliziotti sotto copertura sono riusciti a introdursi all'interno di canali di scambio e hanno individuato le utenze attraverso le quali avvenivano le connessioni. Poi sono entrati in azione effettuando i 13 arresti e trovandosi davanti ad uno scenario abominevole.